La cosa più incredibile, hai visto vita mia, era il sogno di una vita che non è più fantasia, ecco il corpo in movimento più imponente che ci sia, il gioiello della nostra comandia. E' scritto in prima pagina, chiunque leggerà, il gigante dell'Atlantico, quest'oggi salverà, come è rotta a ragione la statua della libertà, è un evento che la storia esprimerà. E' la nave più importante che ci sia, la nave più importante che ci sia. E' la nave più importante che ci sia. Mi riesco ancora a prenderci, eppure eccolo qua, un biglietto per la verità, che adesso è una realtà, come un ponte, e il nuovo mondo lo attraverserò, con un sacco di speranze partirò. E' la seconda classe, mi scusi, per la seconda classe. Ma lui c'è? Ma lui c'è? Ma che questa cosa non arriveremo mai a me, caro? Testo, 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 ragazzo, ho trovato, avanti, vogliate far indagare i miei effetti personali per cortesia? Dispare, ma erano proprio necessari tutti questi ragazzi. Appena qualche cambio, te ne fai stupito. Un grande chiacchierare, e alla fine non la fa, non ha niente di diverso dalle altre novità, E' solitanto un altro anetroco dell'altra società, ma che viaggio interminabile sarà? Non mi dico ancora, che un altro viaggio comincia. Vedono in me ciò che non c'è, ma non sanno che dentro io grido. E' la prima cosa che non c'è, ma 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 non c'è. E' la prima cosa che non c'è, ma 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 non c'è, Grazie.